signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale negli ultimi mesi abbiamo visto tutto quello che dovete inserire nel nostro mondo di gioco per fare un buon world building e rendere il mondo di gioco coerente e interessante è arrivato però il momento di parlare di qualcosa i diametralmente opposto per quanto possa sembrare controintuitivo infatti riempire il mondo di gioco di dettagli anche nel caso si abbia il tempo per svilupparlo non è la cosa migliore da fare anzi molto spesso è meglio lasciare degli spazi vuoti sulla mappa con il preciso in tempo di tornare in seguito a riempire quegli spazi quando oramai il gioco è partito questa settimana vediamo perché è conveniente questo comportamento cominciamo intanto spiegando perché dovrebbe essere meglio lasciare degli spazi vuoti sulla mappa immagino che la reazione di molti di voi anche solo al tito del video sia stata ma come preparare il mondo di gioco serve proprio a dare ai giocatori sempre qualcosa da fare e avere già tutto il materiale preparato per quando si giocherà se una zona nella mappa è vuota vuol dire che lì dentro per definizione non c'è niente interessante ma se quella zona non è interessante non serve alla storia quella zona dovrebbe essere del tutto eliminata effettivamente sì parlando in linea generale se una parte della mappa non ha assolutamente niente di utile dentro quella dovrebbe essere eliminata il mondo di gioco esiste per venire incontro alla storia e se una parte del mondo di gioco non serve alla storia quella parte non ha senso di esistere ma ricordatevi che voi non state scrivendo un romanzo voi state gestendo un gioco di ruolo voi non potete avere la certezza di quali zone del mondo di gioco saranno interessanti e quali no e soprattutto non sapete quali sono le zone del mondo di gioco che verranno effettivamente attraversate o comunque influenzate alla storia che state raccontando man mano che la campagna prosegue potreste rendervi conto che il materiale che avete preparato non è più adatto a quello che state facendo magari i giocatori con le loro decisioni e la loro influenza hanno sterzato la storia in una direzione che voi non vi aspettavate o magari vi siete semplicemente resi conto che alcune cose che erano state inserite per trame o per temi che voi avete preventivato quando avete visto effettivamente il gioco i giocatori non andavano più bene non sarebbero state così interessanti e quindi voi stessi avete deciso di riarrangiare le cose se ogni singolo aspetto il vostro mondo di gioco è già stato precedentemente deciso ed è già stato finemente collegato con qualunque altro aspetto rimuoverne uno aggiungerne un altro o semplicemente fare dei cambiamenti comporterebbe a cascata di dover rimuovere cambiare aggiungere tutti gli altri elementi e quindi anche una modifica minima comporterebbe un lavoro di riscrittura enorme che non necessariamente resterebbe a sua volta stabile anzi più avanti al corso della campagna potreste di nuovo dover cambiare tutto da capo giusto per chiarire io per ora ho sempre parlato di spazi vuoti della mappa ma questo discorso non vi applica semplicemente alla geografia del mondo o alla sua fisica come sarebbe controproducente decidere preventivamente la posizione di ogni singolo sasso per terra di ogni strada sarebbe altrettanto scomodo avere un elenco inossidabile e immutabile di tutte le possibili organizzazioni sociali tutti i possibili sviluppi culturali e probabilmente anche avere un sistema magico fin troppo rigido potrebbe alla fine renderlo fondamentalmente inutile o comunque poco interessante probabilmente anzi gli aspetti politici e sociali sono quelli che dovrebbero lasciati essere i più indefiniti sicuramente sapere qual è il governo e quali sono le principali fazioni della regione del regno del pianeta comunque della zona in cui un determinato arco della quest si svolge è importante ma alcuni dettagli di tutto questo dovrebbero comunque essere lasciati bianchi ed essere completati in seguito in città c'è una forza di polizia che si oppone all'organizzazione criminale ma l'organizzazione criminale sono effettivamente dei feroci criminali incalliti che non vogliono altro che danneggiare e rubare la proprietà altrui o sono invece un'eroica banda di partigiani che sta facendo resistenza contro un governo opprimente questo sarebbe meglio dipendesse da qual è la fazione con cui i giocatori hanno deciso di schiararsi se non è qualcosa di assolutamente necessario a livello di storia il sistema magico come ho detto potrebbe essere lasciato per qualche modo indefinito ma in questo caso le possibilità area di manovra devono essere comunque molto risicate il problema del sistema magico è che essendo l'elemento fantastico e l'avventura non è qualcosa che abbia una sua controparte e molto spesso non è possibile semplicemente usare il buon senso per capire se qualcosa può essere fatto non può essere fatto però potrebbe essere lasciato vago il fatto se esista più di un sistema magico nel vostro mondo esistono astronavi che viaggiano più veloci della luce grazie a una particolare tecnologia ma magari esiste un'altra applicazione di quella tecnologia che non è stata ancora del tutto scoperta o compresa e magari sullo stesso principio potrebbero esistere anche delle macchine che viaggiano attraverso il tempo questo accade vabbè non faccio spoiler se ricordate il discorso che vi ho fatto all'inizio di questa stagione su il piccolo e il grande dell'ambientazione nel caso vi lascio qua su il link al video se dovete andarlo a recuperare anche in questo caso vale lo stesso ragionamento avere zone incredibilmente dettagliate e zone totalmente lasciate non sviluppate non è la maniera migliore per procedere aree importanti nel mondo di gioco aree di cui avete virtualmente la certezza che prima o poi appariranno durante la storia ha comunque senso che vengano molto sviluppate molto dettagliate la capitale del vostro regno fantasy da cui tutta l'avventura inizio in cui i giocatori vanno periodicamente a incontrare il re a incontrare tutti i loro alleati sicuramente dovrebbe essere uno dei pezzi del mondo su cui avreste messo più cura e più dettagli ma per quanto abbia senso che abbia le sue organizzazioni abbia una sua cultura propria abbia i suoi luoghi caratteristici non ha comunque senso che venga sviluppata in un dettaglio tale da sapere cosa c'è in ogni civico di ogni strada potrebbero esserci volutamente delle zone nella città lasciate meno dettagliate magari la città ha un quartiere dove c'è il mercato e una zona dove c'è il porto ma quali siano esattamente le attività che ci sono nella zona del mercato e quanti siano esattamente i moli del porto non viene mai descritto e a seconda di cosa servirà ai giocatori quest per quest, impresa per impresa cose che potrebbero aver senso trovarsi al mercato a porto verranno di volta a volta inserite anche se magari la zona è già stata visitata e quello specifico posto non è mai stato nominato magari si trova semplicemente in un'altra traversa della strada in cui i personaggi non sono andati allo stesso modo continuando a sviluppare intorno alla capitale del regno probabilmente ci saranno tutta una rete di villaggi cui compito principale è coltivare il cibo che poi viene mangiato nella capitale questo ha senso ed è coerente con quel tipo di ambientazione ma non è necessario che vengano preventivamente definiti quanti siano questi villaggi quale sia la loro esatta posizione e chi vive in ognuno di essi viene detto che intorno alla capitale ci sono altri villaggi e poi a seconda di dove vorranno andare i giocatori o che cosa tornerà utile per la storia volta per volta compariranno gli specifici villaggi di cui c'è bisogno sempre secondo lo stesso procedimento il regno si estenderà per centinaia di leghe in ogni direzione si sa che al nord ci sono le montagne a sud c'è il mare e la zona è prevalentemente collinare magari sulla mappa saranno indicate le posizioni di qualche grande città e di qualche il bosco sacro l'antico campo di battaglia ma non serve che siano definite prima tutte le strade tutti i villaggi tutte le barche di pescatori tutto il regno questo può anche tornarvi utile sul lungo periodo nel caso i giocatori tornino in posti dove sono già stati magari gli avventurieri spaziali atterreranno più volte con la loro astronave sullo stesso pianeta ma non necessariamente atterreranno sempre nello stesso posto quindi se vi serve introdurre qualche elemento particolare potete semplicemente metterlo in una zona del pianeta dove non sono ancora atterrati e dire ai giocatori che si trova in quel posto è sempre stato lì ma non lo sapevano la mancanza di informazioni su alcuni elementi del war building potrebbe infatti essere un elemento di war building a sua volta non necessariamente qualcosa che non è stato esplicitamente detto in quest non esisteva prima è il caso che dicevamo dei villaggi agricoli intorno alla capitale anche se i giocatori non ne hanno mai sentito parlare sicuramente erano già lì prima probabilmente era molto prima che ci arrivassero i giocatori questo vale anche per il mondo reale non so quanti di voi hanno effettivamente girato ogni singolo vicolo della vostra città o sono entrati in ogni singolo locale e ogni singolo negozio sempre della stessa città se però è possibile che esistano dei posti che ci sono sempre stati ma nessuno ha mai sentito parlare è anche possibile che alcune zone bianche della mappa che siano zone geografiche o che siano altri elementi siano effettivamente in bianco anche per gli stessi abitanti magari si sa che quel volume di spazio contiene 50 pianeti ma questi pianeti non sono mai stati esplorati per sapere quali sono abitabili e quali sono abitati magari le mappe del regno si fermano alle montagne e ci sono solo storie vaghe sui popoli che vivono al di là nel mondo reale è successo che abbiamo scoperto l'esistenza dell'America nel 1400 l'America e la gente che ci abitava era sempre stata lì da tempi preistorici e l'America come continente è molto più vecchia vale la stessa cosa anche per le organizzazioni può darsi che nessuno abbia mai sentito parlare della gilda dei lavoratori portuali fin tanto che non è entrata nella zona del porto ma può anche darsi che effettivamente l'antica società degli assassini abbia fatto di tutto per fare in modo che la gente non sappia della sua esistenza e quindi anche se è sempre stata lì nessuno sa che esiste e che sia magari il mandante ovviamente dietro un assassino diciamo che per questo video è tutto adesso la parola sta a voi scrivetemi nei commenti se voi lasciate spazi vuoti nelle vostre ambientazioni o se non lo fate se vi siete mai trovati in difficoltà per averlo fatto o per non averlo fatto noi settimana prossima torneremo a parlare dei piani esterni per la serie sul d20 system in cui stiamo vedendo la geografia del planscape tra due settimane ritorneremo a parlare di world building anche stavolta con qualcosa di molto importante fino ad allora comunque se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete vi è piaciuto accrescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video